E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nico e oggi siamo qui in un nuovo video che parla di Fortnite ragazzi volevo dirvi come riscattare il personaggio, la skin di Fortnite gratuitamente, Deathstroke Zero ragazzi questa skin verrà rilasciata assieme al suo dorso decorativo ovviamente nelle negozi oggetti però costerà V-Buck, invece uscirà anche gratuitamente e vi spiego come il 27 maggio di questo, ovviamente di quest'anno ragazzi, questo 27 maggio uscirà il torneo Deathstroke ragazzi e si avrà la possibilità di vincere gratuitamente questa skin come sapete ragazzi esce anche il fumetto quindi potete fare anche fumetto di 3 euro e la skin gratis quindi ragazzi vi conviene e invece acquistare non conviene ragazzi perché con il fumetto acquistare tutto meglio ragazzi fare il torneo, aperti due fai ovviamente e prendere sto fumetto ragazzi questo è il modo, niente volevo dirvi solo questo mi raccomando ragazzi per altre news così scrivetevi, lasciate like, trovate la campanella cosa invece di scrivere la campanella ragazzi penso che già lo sapete questa cosa però io ve la ridico perché è per portare altri contenuti per darvi anche queste news piccoline su come... ragazzi spero che questa piccola news e se vi piace queste piccole news me lo dite e niente volevo solo vi serviti questo ragazzi, mi raccomando guardate questo video e attivate la campanella così mi dovete lasciate un bel like e commenti e supporto qui Danico è tutto per ora e per oggi e bella ragazzi esce il 27 il torneo di Deathstroke, non perdetelo ragazzi, vincete e prendete la skin lo farò pure io e metterò i migliori modi per vincere e per dire e per sbloccarla ragazzi perché siamo dei grandi niente ragazzi se siete arrivati fino a questo punto commentate con hashtag torneo di Deathstroke ti aspetto